ok oggi vediamo la parte conclusiva della del primo capitolo sulle onde abbiamo visto la volta scorsa le proprietà generali delle onde oggi vediamo le onde acustiche le onde sonore e quindi l'acustica ma solito useremo simulazioni del fetto o alcune che ho trovato su ajs e le figure provengono tutte dal testo dell'open stacks college allora le onde sonore o onde acustiche cioè il suono è formato da onde longitudinali che si muove che si muove si propagano nell'aria o comunque in un mezzo anche in acqua ci sono onde acustiche onde sonora e come funziona la cosa beh immaginato detto parlante di un di uno stereo questo è formato da una membrana che oscilla nella stessa direzione in cui l'onda si propaga e produce delle zone o di alta e bassa pressione che l'aria viene compressa oppure potete vederlo anche come uno spostamento delle molecole d'aria dove c'è compressione le molecole sono spostate quindi più allontanate l'una più vicino l'una dall'altra dove c'è bassa pressione sono più distanziate e qui abbiamo le quindi le proporzioni dell'onda armonica e esprimibile sia in termini di variazione di pressione questo delta p è riferito ovviamente la persona atmosferica che ha il valore medio oppure come spostamento delle molecole d'aria rispetto alla posizione di equilibrio si tratta comunque ripeto di onde longitudinali cioè dove la perturbazione avviene nella stessa direzione lungo la quale l'onda si propaga l'esempio più semplice di strumento musicale è il diapason che produce un suono puro quindi qui vediamo che vibrando per quote comprime o meglio sarebbe meglio dire micro comprime l'aria nelle sue vicinanze e produce delle onde che si propagano ovviamente in tutte le direzioni questi qui e sono disegnate nel piano quindi sono dei dei parti di cerchio in realtà sono delle sfere le onde sonore nella nell'aria sono onde sferiche se immaginiamo regioni successive di compressione e di rarefazione in termini ad esempio della pressione di prima dove c'è la compressione avremo un massimo dove c'è la rarefazione un minimo e la distanza tra i due massimi successivi dei picchi successivi è proprio la lunghezza d'onda la velocità con cui si propaga il suono nell'aria dipende dalle condizioni dell'aria come abbiamo visto la volta scorsa con le corde vibranti e particolare dalle condizioni di temperatura pressione umidità e composizione dell'aria nel caso di più standard possibile a temperatura di 20 gradi centigradi la velocità è di circa 343 metri al secondo ok nell'acqua la velocità è maggiore perché l'acqua trasmette le onde più velocemente d'accordo eccoci qua questa è una cosa analoga a quella precedente come la pressione atmosferica che è il valore medio della compressione chiaramente la continuando con l'esempio di prima è chiaro che la il tipo di onda che uno strumento in grado di produrre dipende da come fatto lo strumento stesso sempre parlando in termini di diffusori stereofonici dove ho letto parlante piccolo avrò oggetti di piccola lunghezza d'onda perché l'oggetto è piccolo quindi produce perturbazioni una regione di spazio piccolina e quindi a frequenza alta perché come abbiamo visto la volta scorsa un'onda che si propaga a una velocità che vale lunghezza d'onda per frequenza ok siccome la velocità dell'onda sonora dipende dalle condizioni dell'aria e i suoni diversi hanno velocità uguali questo è una fortuna per noi perché immaginate di sentire un concerto dove suoni diversi avessero velocità diverse sarebbe una cosa terribile non venerebbe verrebbe un caos invece così la la musica ci arriva tutta nello stesso momento e quindi sentiamo l'armonia prodotta dallo strumento anche lontano è la stessa che arriva il mio orecchio riesco a percepire la musica in modo decente e completando l'esempio se invece ho un diffusore di dimensioni grandi questo produrrà un suono di lunghezza d'onda grande e quindi di bassa frequenza morale della favola la lunghezza d'onda e la frequenza del suono sono inversamente proporzionali perché il loro prodotto è costante ed è a parità di pressione e temperatura ed è uguale alla velocità con cui si propaga l'onda cioè 343 metri al secondo queste onde ci arriva arrivano all'orecchio noi le ribelliamo le ce ne accorgiamo tra virgolette sentiamo i suoni perché abbiamo un complesso impianto di decodifica delle onde l'onda acustica qui vedete in linea continua c'è la compressione massima in cui la tratteggiata c'è il minimo queste onde di compressione rarefazione colpiscono entrano nel dotto uditivo e colpiscono questa membrana che è il timpano ok le oscillazioni di questo timpano mettono in moto dei meccanismi per cui l'orecchio orecchio interno questa questa regione qui trasforma queste vibrazioni che sono meccaniche in impulsi elettrici che invia al cervello che questo è un sistema estremamente sofisticato per rivelare i suoni e per come fatto per l'anatomia e per la fisiologia dell'orecchio umano noi siamo in grado di sentire suoni la cui frequenza si aggira come minimo ai 20 dai 20 hertz cioè 20 vibrazioni al secondo ai 20 mila hertz ai 20 kilo hertz appunto ok oltre sono gli ultrasuoni oltre i 20 mila e sotto i 20 sono gli infrasuoni molte specie animali per esempio i cani sono in grado di sentire hanno un'orecchio che è sensibile a suoni anche superiori ai 20 mila hertz d'accordo e l'intensità l'ampiezza delle onde sonore che noi sentiamo diciamo lo chiamiamo volume ha un'altra cosa importante ok in reazione ricordate la volta risposta quando abbiamo studiato le onde abbiamo detto che qui la grandezza legata che abbiamo in ascissa si deve comportare questo è una sinusoide come un angolo e la chiamiamo fase qui la fase è legata alla posizione ok punti che hanno la stessa fase nello spazio o ancora prima ecco in questo caso qui questo che si vede meglio queste arche di circonferenze che sono in realtà completi non so perché la figura non ho fatta parziale sono punti che hanno la stessa fase questi in particolare sono tutti i punti di massimo con questi punti c'è i punti nello spazio dove l'onda alla stessa fase prendono il nome di fronte d'onda quindi nel caso di una sonora in condizioni normali i fronti d'onda sono delle sfere ok quando arrivano appunto le nostre fronte d'onda all'orecchio li riveliamo tramite la fisiologia dell'orecchio umano d'accordo e l'intensità del suono che percepiamo è legata all'ampiezza delle onde sonore cioè alla quella che in questo grafico e la distanza tra il picco e il valore medio della grandezza che uscille in questo caso la pressione d'accordo per cui per esempio l'intensità di un'onda se voglio produrre un'onda intensa ok ci metto dentro poca energia se vuole produrre un'onda intensa invece cioè di volume alto devo spendere più energia l'energia trasportata dall'onda e quindi attraverserà una regione a dello spazio in un certo tempo delta t quindi se io ho che ne so ecco la mia voce è un sistema meccanico che in grado di emettere energia attraverso onde sonore e queste si diffondono nello spazio quindi attraversano regioni di data superficie in un determinato tempo ora ricordate che il concetto di energia spesa in determinato tempo da un prodotto che si chiama potenza p e il rapporto tra la potenza e l'area attraverso cui questa energia viene emessa si chiama intensità del suono dell'onda sonora vi ricordo che l'energia si misura in joule il tempo in secondi quindi la potenza in watt e l'intensità sonora in watt al metro quadro ok che immaginate di avere una certa regione nello spazio con un quadrato l'onda che la attraversa in questo caso queste frecce rappresentano l'energia che la attraversa a un'intensità che è data da quanta energia attraversa questa superficie diviso il tempo ok se parliamo delle onde sonore che quindi hanno fronti d'onda che sono delle delle sfere allora al posto dell'area a possiamo scrivere la superficie della sfera se un certo punto mi metto metto che ne so un altoparlante che questo diffonde onde sonore in tutte le direzioni forse per esempio un altoparlante omidirezionale per cui a distanza r dal punto di emissione l'intensità del suono sarà la potenza della sorgente cioè quanta energia emette al secondo diviso per una superficie che è una sfera centrata nella sorgente e di raggio r quindi detto in parole povere più lontano vado più il suono è debole e se raddoppio la distanza l'intensità si riduce di un quarto perché va come il quadrato della distanza è chiaro questo punto quindi più deboli più lontano mi metto più debolmente sento il suono ora per questioni proprio legate alla fisiologia umana la risposta del nostro apparato uditivo torniamo qui la risposta cioè l'input che il cervello riceve quindi il risultato di questo meccanismo che c'è qui dentro è legato non proporzionalmente all'intensità questo in realtà è un meccanismo di difesa ok il l'apparato uditivo non reagisce linearmente ma reagisce con lo stimolo che io ricevo la sensazione meglio che ricevo al cervello va come il logaritmo dell'intensità luminosa e necessità acustica ma anche luminosa per l'occhio funziona al stesso modo che per questa ragione si è introdotta una scala per misurare l'intensità dei suoni che è legata al logaritmo decimale questo lo vettino in base 10 dell'intensità del suono quindi questo i lo misuro in watt al metro quadro e questa intensità acustica questa beta è in decibel questo db dal ricercatore che ha introdotto questa scala a che cosa riferite beh si prende a riferimento questo i 0 che è la più debole intensità che l'orecchio umano è in grado di percepire attenzione a non confondere la frequenza minima che siamo in grado di percepire che è 20 hertz e invece l'intensità del suono minimo che siamo in grado di percepire che è 10 la meta 12 batta al metro quadro che un numero molto 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 piccolo nostro ore che molto sensibili e poi c'è questo fattore 10 da cui decibel d'accordo quindi un suono che aveva l'intensità pari a i 0 a una intensità un livello beta che è esattamente uguale a zero perché il 0 fratto i 0 fa 1 il logaritmo di 1 e 0 quindi beta i 0 per darvi un'idea della scala la soglia del dolore che produce sofferenza nel sentire un suono di quell'intensità è di circa 120 decibel andiamo di fare un po di pratica con i decibel quindi sia un suono di intensità i 0 il livello di sonoro in b decibel è 0 se decuplico il suono quindi a 10 i 0 beta vale 10 l'obiettune dice 1 per 10 fa 10 decibel ho dimenticato di mettere i db vabbè se decuplico ancora una volta da 10 a 100 ok beta passa da 10 a 20 quindi l'intensità sonora decuplica il livello sonoro raddoppia quindi se io ho una confrontando due suoni diversi ho la sensazione che uno sia il doppio dell'altro in realtà l'intensità acustica dell'onda sonora che mi arriva sono il rapporto 10 a 1 una e 10 volte l'altra così passando da 100 i 0 a 1000 i 0 i sono il l'intensità passa da 20 a 30 di nuovo aumenta di 10 ogni volta che aumento di 10 l'intensità sonora aumenta di 10 volte tanto anche nel caso delle onde acustiche si possono verificare fenomeni di interferenza per cui per esempio esistono punti dove è più vantaggioso posizionarsi ad esempio per sentire bene le sono che viene da due diffusori di un impianto ai file è chiaro che il questo effetto viene però contaminato dalla riflessione dei suoni sulle pareti ok e lì per esempio nelle sale da concerti o nei teatri ci sono studi ben precisi di ingegneria acustica dove che fanno in modo che nella posizione dove ci sono gli spettatori quanto più possibile il suono sia buono dovunque qui nell'ipotesi che di essere privi di riflessione poi in una stanza anecoica cioè dove le pareti non riflettono il suono ma sono fono assorbenti allora qui i puntolini sono punti dove si sommano i picchi quindi massimi provenienti da entrambi i diffusori quindi in questo caso minimo perché ho due minimi insieme quindi ho una interferenza costruttiva qui ho due picchi analogamente insieme quindi alta differenza costruttiva dove si sovrappongono un picco e una vola o interferenza distruttiva ok come nel caso di avevamo visto l'altra volta delle onde di qualsiasi tipo ecco qui spiegato un pochettino un pochettino meglio se mi poi ho i nostri due diffusori in nei punti dove il pallino blu o la somma dei picchi il pallino rosso la somma di due gole quindi due minimi e due massimi danno comunque un segnale intenso dove invece il massimo si somma il minimo o interferenza distruttiva e quindi li sento poco niente e anche in questo caso quando l'interferenza è costruttiva i segnali che mi arrivano in questo punto per esempio l'interferenza è costruttiva perché perché la differenza tra le fasi delle due onde che mi arrivano dai due altoparlanti differiscono di una lunghezza d'onda o di multipli di una lunghezza d'onda dove invece l'interferenza è distruttiva ok le due fasi differiscono di mezza lunghezza d'onda oppure se preferite di multipli dispari di mezza lunghezza d'onda e poi abbiamo tutti i casi intermedi qui per esempio c'è un esercizio ecco qui abbiamo due altoparlanti separati di 5 metri l'un dall'altro il punto p dove si troviamo noi ascoltare la musica dista r1 del primo altoparlante r2 dal secondo la distanza dal piano dietro parlanti di sei metri risparmio della distanza dal secondo il primo diffusore è di due metri in p sentiamo un un minimo dell'intensità sonora ok qual è la frequenza del suono qual è la f beh è sufficiente ricordarsi che se in p ho un suono minimo vuol dire che in più interferenza distruttiva quindi se a un determinato istante sento le onde che vengono dal diffusore 1 del diffusore 2 vuol dire che il loro percorso la fase dipende del percorso visto che il tempo è lo stesso in tutti e visto che sento le due onde nello stesso istante allora la differenza tra i due percorsi deve essere un multiplo dispari il più piccolo multiplo dispari è uno di mezza lunghezza d'onda quindi sarà sufficiente calcolare r1 e r2 trovare la differenza il doppio di questa differenza sarà lunghezza d'onda qui con i dati che abbiamo la distanza del primo altoparlante di 6,32 metri dal secondo diciamo il tema di piccolo ovviamente 7 71 facciamo la differenza la lunghezza d'onda è il doppio della differenza tra i due percorsi occhi e acustici e la frequenza del suono sarà la velocità del suono nell'aria che sempre la stessa diviso la lambda e quindi circa 439 hertz spero che sia abbastanza chiaro questo fatto c'è la possibilità di che si verifichi appunto l'interferenza anche tra onde acustiche è sfruttato in molti ambiti per esempio i sistemi di riduzione del rumore qui avete l'esempio di una cuffia di un dispositivo acustico da indossare e c'è un circuito che analizza il suono in entrata identifica il rumore ed emette con questo mitrofonino un suono che ha le stesse caratteristiche del rumore ma è sfasato di mezza lunghezza d'onda per cui cancella il rumore quindi alla vostra orecchio arriverà un suono pulito tra virgolette dal rumore chiaramente esistono algoritmi particolari per identificare il rumore rispetto al suono che uno vuole dire per non cancellare anche parte di quello che uno un interesse a udire ok altro punto molto importante abbiamo visto anche in parte la volta scorsa per le proprie onde monodimensionali vediamo vedere come si comportano le onde acustiche rispetto agli ostacoli qui ho registrato un breve video questo lo trovate sempre sul sito della del fetta qui abbiamo già cominciato l'inizio ecco qui abbiamo un produttore di queste questa barra sinistra produce ogni onde piane quindi compressione la rifazione questa realtà è relativa all'onde sulla sull'acqua immaginate queste onde sull'acqua qui c'è uno strumento che ci è utile per misurare l'ampiezza delle onde le posizioniamo in due punti ad esempio vedete che se la distanza del 32 è una lunghezza d'onda i due punti oscillano in una posizione di fase perché differiscono di una lunghezza d'onda ok ma questo l'avamo già visto il bel il bel che invece sono lungo la stessa fase in linea stessa fase uno forte d'onda o oscillano in fase quindi sono uno sopra l'altro quindi anche noi li vediamo il bello di questa simulazione è il fatto che possiamo andare a prendere un ostacolo e metterlo davanti alle nostre onde prendiamo una fenditura ok e andiamo a produrre l'onda e vediamo che se l'onda si propagassero linearmente quindi non vedremo niente e invece l'onda acustica riesce ad aggirare l'ostacolo cioè anche in queste posizioni che sono coperte rispetto dall'ostacolo misuriamo una certa intensità di suono questo processo questo fenomeno che fa sì che l'onda sia in grado di aggirare gli ostacoli prende nome di diffrazione che è legato al principio di eigens cioè ogni fronte d'onda è ogni punto scusate il fronte d'onda è sorgente di altre tante onde sferiche che poi si sommano ok per cui tutti questi punti nella parte libera della fenditura sono sorgenti di onde sferiche il loro in sviluppo di nuovo assumono un andamento sferico per cui tecnicamente è proprio come se l'onda aggirasse l'ostacolo in termini acustici cosa significa questo beh significa che se questo è un muro ok e qui in questa stanza ci sono due persone che parlano anche se io non riesco a vederle riesco a sentirle perché il suono aggira l'ostacolo il suono avviene per diffrazione aggira l'ostacolo invece non riesco a vederle ok non perché la luce non abbia diffrazione ma per la riflessione della luce avviene in condizioni piuttosto diverse d'accordo questo concetto questo fenomeno rispetto prendermi di diffrazione ok un altro effetto importante ed è il penultimo per oggi è l'effetto doppler per cui per esempio la frequenza dell'onda che io percepisco dipende dallo stato di moto del recettore cioè delle due persone che quindi sono indicate da x e da y oppure della sorgente se tutto è fermo se la sorgente quindi la sirena che sta sull'auto e chi ascolta sono fermi rispetto all'aria che fermi o in moto dipende rispetto a cosa qui il suono si propaga nell'aria quindi se siamo fermi rispetto all'aria allora sia x che y percepiscono la stessa frequenza emessa vediamo ecco qui c'è una simulazione che secondo me rende bene l'idea immaginiamo quello il punto lino rosso e la sorgente quello verde e chi ascolta se tutto è fermo eccolo rispetto all'aria abbiamo la simulazione questa emette onde acustiche che sono onde sferiche questioni fronti d'onda e qui tra queste due barre rosse sono i fronti d'onda emessi dal sorgente sopra vedremo quelli percepiti quel punto lino verde percepisce quindi onde che hanno la distanza tra i due fronti d'onda che ha lo stesso periodo questa lunghezza è la stessa di questa ok sono leggermente sfarasate per la distanza però la differenza di tempo quindi il periodo e quindi la frequenza è la stessa se viceversa metto la sorgente in moto cioè la faccio spostare verso la sorgente allora mentre il fronte d'onda viaggia anche la sorgente si sposta per cui la distanza tra due fronti d'onda successivi non è più quella che era prima e quando il suono arriva nel punto verde in chi ascolta la differenza tra due fronti d'onda in termini temporali è più piccola quindi sento una frequenza superiore la differenza di frequenza viene può essere aumentata perché i fronti d'onda sono più vicini quindi percepisco io sento un suono più alto in frequenza e questo effetto si chiama effetto doppler che dipende appunto la frequenza percepita dipende dallo stato di moto della sorgente ma non solo se invece la faccio allontanare allora per la stessa ragione i fronti d'onda mi arrivano più distanziati rispetto a quello che avrei se la sorgente fosse ferma e quindi la distanza temporale qui in ascissa c'è il tempo tra un fronte d'onda successivo ok è più grande di quella emessa quindi qui tempo periodo più grande significa frequenza più piccola quindi questo qui sento un tono come si dice in musica in più basso d'accordo ecco lo stesso discorso di prima che abbiamo dei grafici che si mostrano questa è la sorgente mentre si sposta i fronti d'onda queste che si conferenze man mano che si sposta la distanza tra fronti d'onda è più piccola e quindi y che nel ecco y che la ragazza sulla destra in posizione y percepisce una frequenza maggiore perché la distanza tra un fronte successivo è la distanza percorso dall'onda meno quella percorso dalla sorgente vs è la velocità della sorgente e t è il periodo dell'onda d'accordo per cui y percepisce questo lambda primo che è più piccolo di lambda siccome la velocità del suono è lunghezza d'onda per frequenza la frequenza f primo percepita da y quindi da dalla ragazza rispetto alla quale l'auto si avvicina a questa relazione prendo v divido l'ambda primo l'ambda primo l'abbiamo visto prima ha questa caratteristica vt meno vst quindi velocità del suono nell'aria meno la velocità della sorgente quindi dell'automobile in questo caso rispetto all'aria per il periodo t ma 1 su t la frequenza quindi la frequenza percepita rispetto a quella emessa f è più più alta perché questo denominatore è più piccolo del numeratore quindi f primo è più grande di f se la sorgente si avvicina a chi riceve il suono ok viceversa se il suono è questo lo vediamo dopo se il suono è in allontanamento ok il meno diventa più quindi ho una frequenza più bassa ok perché basta cambiare il seno della della velocità quello che prima era meno e diventa più ecco in generale la frequenza se percepita f primo se la sorgente in moto a questa relazione rispetto alla frequenza emessa ok quella emessa dalla sirena che sta sull'auto attenzione le cose cambiano se invece si muove chi riceve il suono chi percepisce si muovono la ragazza in y ragazze in x rispetto alla sorgente se qui l'auto sta ferma ma io mi sto muovendo allora le onde io le percepisco come nel mio sistema di riferimento come avendo una velocità superiore v velocità della dell'aria del suono nell'aria più la velocità del ricevente in questo caso della ragazza di nuovo posso calcolare la frequenza percepita come la nuova velocità diviso lambda e ottengo che la frequenza delle onde che io percepisco quando corro verso la sirena è più grande perché la velocità con cui mi arrivano è maggiore e questa è vr è la velocità con cui il ricevente si muove verso la sorgente per il motivo del tutto analogo a quello precedente se invece la velocità e di allontanamento allora basta cambiare segno avr d'accordo in generale quindi se si muovono sia la sorgente che ricevente vale questa relazione dove attenzione il segno superiore si usa per l'avvicinamento mentre quello inferiore si usa nel caso dell'allontanamento e vr è la velocità di chi riceve il suono vs è la velocità di chi lo emette mentre v è la velocità del suono nell'aria in condizioni di aria ferma ovviamente ok ha ancora un'altra cosa riguardo alle onde stazionarie nel caso dell'acustica si possono creare situazioni in cui ad esempio degli strumenti per cui o del dei tubi delle cilindri chiusi dell'estremità e aperte l'altra tipo le canne dell'organo ok e questi strumenti si possono formare delle onde stazionarie che hanno questi vincoli nell'estremità chiusa devo avere per forza un nodo perché qui l'aria non può spostarsi in avanti indietro perché questa parete ferma mentre nell'estremità aperta avrò il massimo dello spostamento perché fuori la pressione per esempio è quella atmosferica e quella di equilibrio anche in questo caso possono essere possibili diversi modi sempre tenendo conto che abbiamo il vincolo di nodo all'estremità chiusa e piccola estremità aperta quindi questa sarebbe la nota fondamentale la prima armonica queste sono le armoniche successive ok dove ho multipli dispari di quarti di lunghezza d'onda d'accordo e così via c'è il caso anche di entrambi l'estremità aperte ma insomma c'è poca differenza ultimo punto un fenomeno dei battimenti che interviene quando andiamo ad esempio a accordare lo strumento immaginate di avere due onde due suoni diversi che vi arrivano all'orecchio e i due suoni hanno circa la stessa ampiezza ma hanno frequenze leggermente diverse per sempre per il principio di sovrapposizioni ci saranno istanti in cui le due ampiezze le due fasi sono opposte che vedete l'onda verde e l'azzurra e l'onda rossa sono dove una un picco l'altra una gola per cui queste due si cancellano a un minimo mentre dove hanno la stessa fase o interferenza costruttiva quindi qui a un massimo un picco ok e qui per esempio c'è ecco un altro filmato che ve ne parla forse più precisamente dobbiamo sentirlo questo tipo di modulazione si chiama battimento per dare una spiegazione matematica del fenomeno dei battimenti esaminiamo ciò che avviene in un punto fissato dello spazio questo potrebbe essere per esempio il punto in cui si trova il nostro orecchio o il microfono di un registratore consideriamo la sovrapposizione di due oscillazioni armoniche con ampiezze uguali e frequenze non molto diverse cui corrispondono pulsazioni omega 1 e omega 2 leggermente differenti ecco poi li sovrapponiamo utilizziamo l'identità goniometrica chiamata formula di prostaferesi per iscrivere la somma delle due oscillazioni come un prodotto di coseno qui la goniometrica fa la padrona ecco vedete questo è modulato in ampiezza con una frequenza che si chiama frequenza di battimento come possiamo interpretare questa espressione? i due cosegni corrispondono a variazioni temporali di frequenza assai diverse il primo fattore varia molto lentamente rispetto al secondo infatti abbiamo ipotizzato che la differenza omega 1 meno omega 2 sia molto piccola il secondo fattore invece cambia con una frequenza che è molto vicina a quella di ciascuna oscillazione componente è in effetti la media aritmetica delle due frequenze in sostanza dunque il moto risultante può essere considerato come un moto armonico con ampiezza che pulsa nel tempo poiché i due moti oscillatori all'inizio sono infuse le loro ampiezze si sommano costruttivamente ma poiché le frequenze dei due moti armonici sono un poco diverse questa condizione non si manterrà al passare dei tempi i due moti progressivamente perdono la sincronia fino ad arrivare a un'interferenza distruttiva poi il processo si ripete in senso inverso fino a che i due moti ritornano infatti e così via dando origine alla caratteristica forma d'onda dei fattimenti e così via ok mi sembra abbastanza chiaro ecco potremmo vedere in modo un po' più preciso immaginate di avere queste due y la densità o la pressione dell'aria come due onde che hanno forme d'onda simili compera lunghezza d'onda e quindi periodi e frequenze diverse attenzione questo lambda è la lunghezza d'onda spaziale questo t è quello temporale k che è l'uno sull'ambda viene detto numero d'onda e f è la frequenza siccome noi ascoltiamo l'onda nella stessa posizione la parte legata a x non cambia cambia invece il tempo per mano che il tempo procede l'onda viene modulata quindi immaginate che questo x sia fisso e magari uguale a zero per cui possiamo trascurarlo andando a sommare le due onde che avranno quindi ciascuna la sua frequenza avremo utilizzando la famosa formula di Prostaferesi una onda risultante che ha questa struttura ok ha un andamento che possiamo immaginare con una frequenza che è la media aritmetica delle due frequenze f1 e f2 è un'ampiezza modulata con questo termine dove la frequenza della cosusoide è la differenza delle frequenze mezzi ma in realtà i battimenti cioè l'intervallo di tempo tra un picco nel battimento e il successivo è il doppio di questo perché la frequenza è doppia perché il periodo è la metà adesso andiamo a vedere il perché d'accordo? questa differenza tra le due frequenze in valore assoluto non importa che è più grande che è più piccolo a cui conta la differenza viene chiamata frequenza di battimento eccola qui vedete qui c'è un picco il picco successivo sarebbe qua sotto ma quello che è importante è l'ampiezza quindi questa distanza ok qui anche c'è una simulazione che può essere utile ecco qui abbiamo una un'onda la prima onda quella in blu in rosso scusate aggiungiamo la seconda in blu quella a 10 Hz quella in blu a 12 Hz quindi leggermente diversa qui c'è una differenza costruttiva qui distruttiva vedete questo picco e qui c'è la gola se andiamo a combinarla vediamo l'effetto del battimento cioè una oscillazione che ha una base della media delle frequenze e un'ampiezza modulata con la frequenza di battimento ora qui questo profilo cosinusoidale avrebbe un picco qui e il picco successivo è da questa parte siccome non interessa l'intensità la distanza tra i due picchi è il doppio della frequenza F2-F1 mezzi quindi è la differenza F1-F2 perché qui il coseno andrebbe giù così e questo è quello che si fa quando si accorda uno strumento ok se io sento il battimento capisco che le due strumenti hanno frequenze diverse quindi regolo che ne sono la tensione della corda sulla chitarra in modo tale che il battimento non si senta più quindi di avere un unico suono con una intensità costante se sento l'intensità del suono dal diapason che ne so e dalla corda che è modulata la cui empiezza varia nel tempo capisco che non è accordato per accordarlo devo ridurre questa differenza e quindi annullare la frequenza di battimento questo è quello che si fa appunto quando si accorda uno strumento possiamo vederlo anche in questo modo immaginate di avere due vettori uno blu questo qui e questo verde che ruotano nel piano cartesiano con frequenze leggermente diverse fanno proprio dei moti circolari ma le frequenze sono diverse qui ad esempio sono hanno un rapporto di uno al 90% dell'altra il vettore somma questo è un vettore che presenterà dei battimenti avrà dei massimi quando i due vettori verde e blu sono sovrapposti e dei minimi quando sono opposti come vediamo nella simulazione ok qui sotto vedremo la z che è l'intensità del vettore somma rispetto al tempo ecco le due ampieze sono dello stesso tipo quindi sono identiche facciamo andare alla simulazione mentre ruota vediamo che i ruotori ad un certo punto si allineano quindi a un massimo dell'ampiezza e dopo si diventeranno ad un certo punto opposti quindi a un minimo della frequenza se facciamo andare avanti agli istanti successivi ecco qui abbiamo il minimo quando i vettori erano opposti adesso appena si allineeranno avremo un massimo man mano le differenze di fase tra i due vettori si riduce quando la differenza di fase è zero sono uno parallelo all'altro e ho il massimo dell'ampiezza del vettore somma ecco in questo punto più o meno poi andando avanti nel tempo i due vettori si sfasano di nuovo fino a diventare l'uno all'opposto dell'altro in quel caso il vettore somma ampiezza nulla che ho interferenza distruttiva questo è un altro modo per vedere la stessa cosa questo ci verrà comodo l'anno prossimo quando faremo i circuiti in corrente alternata perché le correnti e la tensione vengono indicate da vettori che sembrano vettori di fase ecco qui il punto del minimo e questo è il coseno della frequenza di battimento vedete questa pulva gialla è la modulazione di ampiezza del suono del battimento ok qui possiamo fermarci abbiamo visto la natura delle onde sonore che sono onde acustiche longitudinali come si cosa si intende per l'intensità del suono e la sua scala in decibel l'interferenza l'interferenza e la diffrazione delle onde acustiche che possono aggirare gli ostacoli l'effetto doppler le onde stazionari in alcuni strumenti a fiato come per esempio un organo la scultura a flusso d'aria come gli organi oppure trombe o altro del genere ok qui si è prodotto con le stazionarie e il congetto di battimento ok tutto sommato ce l'abbiamo fatto in tempi ragionevoli e mi fermo qui